Buongiorno, sono Anna Longo, consulente immobiliare Remax Stella Polare. Siamo a Iatugia e oggi vi voglio parlare di un appartamento pronto per essere abitato in uno stabile sinistra. Seguitemi! Benvenuti! Insiderate vivere in una casa miniosa con ampi spazi ben distribuiti? Sono certa che questa potrà essere la soluzione giusta per voi. Accomodatevi! Grazie a tutti! Siamo in un prestigioso pentavani con doppia esposizione, con ricercate rifiniture dotato di arredi fissi, ristrutturato curando ogni minimo dettaglio, quali una spaziosa cappottiera, muri in pietra o un'insostituibile cabina armadio. Ami dilettarti in cucina per la preparazione di deliziosi pranzi o cene? Bene, questo spazio scusa i piaceri e le comodità della vita. Visto che è bella? E ci sono anche i due posti auto in cultive condominiale. come rinunciarci. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarmi e realizzate il vostro sogno. Grazie e arrivederci!